Siamo alle nostre breaking news, ben trovati, subito in apertura la scuola che è partita con oltre 43 mila studenti, parliamo in apertura della centesima campanella suonata al liceo Francesco Redi di Arezzo che festeggia proprio i 100 anni dalla fondazione, un flash mob con abiti dell'epoca proprio per ricordare questo appuntamento. Parliamo ancora di scuola, abbiamo detto è suonata la campanella anche per i 1300 della Tricca, nella scuola c'è stato di recente un furto con i tablet portati via ma si è sorriso lo stesso, le indagini sono in corso e si cerca anche di poter ritrovare serenità e continuità didattica. Infine chiudiamo con la lamentella di Mauro Valenti di Arezzo Wave che parla di come si è assaltato l'appuntamento con Los Angeles, appunto questa iniziativa che doveva essere fatta ad Arezzo ma ha anche annunciato che forse ci sarà un'edizione di Arezzo Wave a Los Angeles, insomma un po' il punto dell'attività della fondazione. Queste le nostre breaking news e grazie per averci sentito, ascoltato e arrivederci.